è finita è finita finalmente 3 a 2 per il milan ci portiamo a casa due vittorie di fila contro il parma e col bologna di cui col parma non ho fatto video scusate ma non avevo visto la partita insomma non mi andava di fare il video non parlando neanche praticamente insomma ci portiamo a casa questi tre punti buoni buoni su un campo bologna non facile siamo complicati un po la partita un po di sfiga però diciamo che tre punti meritati meritatissimi il bologna non ha fatto niente praticamente ci siamo fatti un autogol noi e per una sfiga un rimparo di merda come sempre rigore e quindi niente 3 a 2 pionte anche oggi secondo me ha fatto fatto gol per carità ha dato anche un rigore che di esperienza perché mette le gambe in mezzo difensore quello là è rigore si non c'entra se c'entra il difensore non voleva l'ha sbilanciato rigore se l'ha cercato pionte di esperienza poi l'1 a 0 poi il 2 a 0 bell'assist di suso quando devo dirlo oggi non è che ha fatto sto partitone però ha fatto un bell'assist a teo i nostri due bomber incredibili un terzino e la punta nostra sono capocannonieri di qui tra l'altro la punta nostra 3 su 4 su rigore vabbè e niente poi cos'altro niente sì terzo gol di jack gran gol di jack si vede che mancava jack già all'inizio campionato adesso abbiamo un uomo in più praticamente al centrocampo e adesso riusciamo anche a fare un po di cambi in più panchetta non stava bene è giocato che si non mi è piaciuto però almeno qualcosità fa ha fatto nel male nel bene sì appunto con buonaventura in campo siamo molto più forti molto più da centrocampo ci siamo di più anche con ciannoglu che torna e niente poi teo però ha fatto tutto lui oggi teo ha fatto tutto lui ha fatto un gran gol ha fatto un bel gol toccata poi ha fatto sto autogol spiegato che gli ha rimbalzata qua sul braccio sulla mano andata dentro poi ha causato rigore ma sinceramente non poteva farci niente gli ha rimbalzata sul ginocchio quell'altro gli c'è messa davanti poraccio comunque uno di milioni anche oggi teo anche adesso appena mi fida la partita mancava un secondo alla fine un altro scatto su tutta la fascia da sola del portiere gli era tirata la parata porno scorupski aveva fatto addirittura doppietta troppo forte teo buona difesa conti mi piaciuto anche col parma detto che ha giocato bene oggi mi è piaciuto sinceramente ha fatto bene è andato poche volte su però quello che quando è andato su ha fatto bene e soprattutto dietro non ha fatto danni che è già tanto anzi ha rimediato due robe semplici fatte bene senza fare minchiate niente diciamo che sì tre punti d'oro fondamentali per recuperare due punti sulla roma che ha pareggiato il cagliari che pareggiate quindi pensate noi dobbiamo recuperare punti sul cagliari vabbè ritorniamo nella parte sinistra di classifica finalmente e niente sì seconda vittoria di fila sono contento sono contento perché sei punti finalmente li abbiamo fatti di fila speriamo si continui così con il sassuolo a natale prima di natale e anche la partita dopo che non mi ricordo con chi è comunque vedremo più avanti bene se è piaciuto questo video mettete un bel like e condividete fate quel cazzo che volete la vostra oschi è tutto ciao a tutti belli e brutti forza mila